a vete legnami infissi sport 1 da 37 anni al servizio dello sport e verde sativa presentano il circuito calcistico d'elite il monterotondo per conquistare i primi storici tre punti in questo campionato d'elite l'atletico aurelio invece per confermarsi e scalare la vetta una buonasera a tutti gli appassionati sportivi questa è monterotondo contro atletico aurelio recupero del campionato d'elite il cross è tagliato dentro l'area poi il tiro dalla distanza si distende paparella prova a rincorrere il pallone falciano la mette fuori l'estremo difensore del monterotondo al limite dell'area prova uno scambio torna indietro la formazione ospite verso riscaldati il tiro dalla lunga distanza che c'è già l'uno a zero siglato proprio da riscaldati battuto verso de castro corto torna all'indietro de castro il cross verso il numero imperi poi dopo la rette ma salta un uomo de castro può andare dentro l'area de castro rimpallo favorevole de castro contro fortunati la respinta di fortunati proprio sul finale di questo primo tempo non c'è più tempo finisce qui la prima frazione di gioco monterotondo 1 atletico aurelio 1 i marcatori sono il numero 18 riscaldati per l'atletico aurelio per il monterotondo il numero 8 dascoli prova a ripartire sodo migliore si libera di un avversario entra dentro l'area il suo tiro colpisce la traversa e poi il palo e il monterotondo allontana il pallone occasionissima per l'atletico aurelio 11 che entra dentro l'area il pallone resta lì falciano e da solo contro paparella prova la conclusione murata e poi c'è il gol del 2 a 1 dell'atletico aurelio un po improvviso dopo una mischia dentro l'area di rigore comunque l'atletico aurelio arriva al gol del sorpasso la situazione valbanesi il suo tiro colpisce la traversa e poi esce comunque si continua con l'atletico aurelio con falciano falciano contro paparella il suo tiro è largo non di molto palardo ci prova lui dalla distanza paparella la respinge con la mano di richiamo rilancio in avanti imperi la tocca verso albanesi ci arriva prima il portiere poi albanesi contro il difensore arriva il gol del pareggio del monterotondo incredibile roraccio del portiere 2 a 2 nei minuti di recupero pazzo monterotondo poi prova a ripartire il monterotondo ma non c'è più tempo finisce qui dice l'arbitro è 2 a 2 storico punto del monterotondo in questo campionato d'élite l'atletica aurelio non passa